Ciao, bentornati e bentornate! Ecco un video veramente breve per aggiornarvi un pochino perché ThingLink è cambiato e se avete già visionato i miei precedenti tutorial forse avete notato alcune differenze e sto ricevendo molte richieste di aiuto perciò ho pensato di farvi un video che vi possa dare una mano in qualsiasi momento io non sia raggiungibile. Allora il primo video era creare immagini interattive per la scuola, penso che l'abbiate visto lo trovate elencato qua sopra, compare adesso oppure qui sotto la descrizione nel video quindi se non l'avete guardato cercatelo perché contiene le informazioni base per creare delle belle immagini interattive per la scuola adatte anche ai più piccoli. Ai piccolissimi invece consiglio creare immagini parlanti quindi se lavorate alla scuola dell'infanzia, se lavorate alla scuola primaria guardate questo video che compare sempre qui sopra in questo momento e altrimenti trovate sempre nella descrizione qui sotto del video che vi accompagnerà passo passo alla creazione di queste fantastiche immagini cliccabili molto semplici da usare per i bambini. Vi ricordo anche che vi ho applicato ThingLink all'insegnamento L2 quindi se avete degli studenti stranieri oppure se siete degli insegnanti di lingue e state cercando un modo interattivo per far avere materiale audio ai vostri ragazzi registrazioni esercizi eccetera guardate assolutamente questo video perché permette anche con qualche trucchetto di utilizzarlo per quelle lingue che non conosciamo per gli studenti stranieri per aiutarli nella loro acquisizione della nostra lingua lo trovate sempre qui sopra oppure giù in basso nella descrizione del video. Vi ricordo che sempre ThingLink rispetta la privacy dei nostri studenti come esattamente come fa Google Suite quindi uno strumento che potete che ormai si chiama Google Workspace è uno strumento che potete utilizzare completamente in sicurezza ho già fatto una live che vi linko sempre indovinati dove qui sopra e faccio questi gesti perché c'è qualcuno ancora che se li lascia scomparire queste piccole finestrelle che compaiono di link ai video e che noi con tanto amore mettiamo all'interno dei nostri video questo link che compare vi porta direttamente una diretta piuttosto lunga devo dire la verità è vero però è una diretta che vi accompagna proprio ancora più passo passo nell'uso di ThingLink e non vi perdete la prossima diretta assolutamente è una formazione live che vi porterà a livello superiore di creare delle escape room con ThingLink come si fa a partecipare a questa diretta si cerca questa volta sotto nella descrizione di questo video il modulo per partecipare riceverete assolutamente in brevissimo tempo il vostro link per partecipare alla diretta e avere una formazione live totalmente gratuita come mio stile assolutamente sulla creazione di ThingLink in ThingLink delle escape room da soli o coi vostri studenti vedremo un po' di trucchetti ma adesso andiamo subito a parlare di questa nuova piattaforma che vi sta lasciando tanti dubbi sull'utilizzo eccomi qua a parte dal presupposto che siete già iscritti che ci abbiate già lavorato su ThingLink se non l'avete fatto guardatevi gli altri video prima oppure dopo avrete notato che tutti i video hanno un aspetto completamente diverso rispetto a quello che notate adesso sulla piattaforma perché come avevo avvisato in live la piattaforma era in evoluzione questo che state vedendo è un account gratuito ci tengo a sottolinearlo perché esistono due tipi di possibilità il gratuito e la pagamento vedremo le differenze durante la live dell'escape room oggi vi faccio vedere semplicemente l'account gratuito perché penso che sia quello più diffuso tra di voi e se avete dubbi a riguardo mi raccomando scrivetemi in qualsiasi momento come vedete mi accorgo che questo account è gratuito perché qui sopra ho il tastino upgrade account che mi avvisa appunto che potrei aderire invece agli account a pagamento un altro modo se non vi ricordate più che tipo di account avete sempre andare a controllare le vostre informazioni all'interno del pallino che c'è qui in alto faccio un po di zoom qui ci sarà il vostro pallino ovviamente col vostro logo all'interno avete un sacco di informazioni in profile settings potete vedere appunto il vostro tipo di account che è un in questo caso nel mio caso è un free lo potevate vedere anche da qui da sotto il vostro nome con scritto free e vi faccio anche andare a vedere nelle setting generali il tipo di piattaforma l'interfaccia praticamente cioè il cambio di aspetto che abbiamo visto vedete che qui sotto i vostri dati c'è scritto saima 2020 ecco questo vuol dire che siete passati alla nuova piattaforma l'ha fatto in automatico il sistema ma a me è capitato di non essere ancora mio agio con la piattaforma di lavorare con i ragazzi di voler utilizzare la vecchia quindi semplicemente si potrebbe ancora fare cliccando su edit e andando a scegliere la vecchia piattaforma non chiedetemi perché hanno questi nomi strani perché non lo so a questo punto avrete la vecchia piattaforma che faccio vedere subito aveva l'aspetto che state vedendo ora un po zoomato e che avete ritrovato in tutti i miei video quindi chi entrando in thing link ha ancora la scritta qua sopra welcome my media explore courses and my students e questo menu qui di fianco ora mi sposto per farvelo vedere meglio ecco allora siete nella vecchia piattaforma e vedete già da qui dalla vostra icona qui sulla sinistra che avete l'account free come fate a forzare il sistema a tornare alla piattaforma quella più moderna diciamo quella più attuale andate di nuovo sul vostro pallino questa volta avrete gli stessi comandi però leggermente diversi sulla rotellina account settings ecco e andiamo a cercare interface setting quindi qui a sinistra questa voce che è la 1234 ci quinta dal basso ci clicco sopra e vado a dire di utilizzare il nuovo editor la nuova interfaccia a questo punto non mi devo ricordare nella vecchia interfaccia che devo salvare i cambiamenti altrimenti non verrà accettata l'opzione che avete appena cliccato ed eccoci qua tornati nella nuova piattaforma che è sempre la vecchia con un aspetto diverso ora lasciate stare questa riga qua sopra che va perché i miei thing link li uso sul canale youtube quindi hanno tante visualizzazioni allora le differenze fondamentali sono che trovate tutti i vostri file qui sotto in piccolo in anteprima sotto appunto la scritta file e prima è comparsa questa scritta folders che però corrisponde appunto alle cartelle ea questa icona qui in alto a destra che come vedete è una funzionalità che però richiede un upgrade quindi la funzionalità a pagamento non ci spaventiamo perché se anche perdiamo dei thing link perché cominciamo a usarne tanti abbiamo bisogno di rintracciarli in fretta avremo bisogno delle cartelle per organizzarle meglio possiamo sempre cercare con la lente di ingrandimento il nostro thing link quindi qui search for media posso mettere dentro non so per esempio vediamo la cellula vedete che il nome è parziale non è neanche scritto completamente giusto perché qui si chiamava wiki scuola la cellula e me chi si è lamentato subito le cartelle sono a pagamento lo so purtroppo queste piattaforme siamo fortunati a poterli usare in modalità gratuita ma chiaramente sono dei prodotti professionali e quindi richiedono in ogni caso un piccolo sostentamento per chi vuole utilizzare le funzionalità più alte di fianco alla lente di ingrandimento trovate invece un filtro anche questo è molto comodo per trovare meglio le vostre immagini perché potete visualizzare anche solo le immagini se avete caricato dei video potete toglierli delle immagini 360 o dei video 360 quindi in questo caso non avete notato magari grosse differenze perché come me userete prevalentemente probabilmente immagini però è un buon modo per fare subito un po di filtro inoltre qui avete il tasto per il cambio di visualizzazione quindi se preferite vedere le icone di nuovo belle grandi come erano in precedenza non vi resta che cliccare qui su questo tasto che ha anche una visualizzazione media oppure una visualizzazione piccola piccola qui avete i tasti per per decidere a che pagina volete essere quante immagini volete mettere in ogni pagina quindi se vi scoccia andare avanti e indietro nelle pagine allora alzate il numero di item per pagina e avrete tutte le immagini nella prima schermata ora io vi faccio vedere tutto questo in inglese perché lo trovo un ottimo esercizio per memorizzare sia per noi che per i nostri studenti che per voi che siete a casa delle parole in inglese però sapete che in google qui sopra in alto c'è sempre un tastino con la possibilità di tradurre il tutto in italiano traduttore automatico a me non piace perché spesso traduce in maniera imprecisa e poi non mi intendo affatto con i ragazzi quando gli dico come fai a non vedere il tasto dove c'è scritto e infatti il tasto dove ci dovrebbe essere scritto traduzione giusta dall'inglese c'è scritto un'altra cosa perché il traduttore ha sbagliato è un traduttore automatico e non umano chiaramente vado avanti nel farvi vedere che le differenze sostanziali ci sono quando voi dovete appunto caricare una nuova immagine quindi il tasto create che prima trovavate qui in alto invece si trova in basso a destra scusate sempre in alto ma a destra quindi per caricare nuove immagini cliccate il tasto create e qui c'è questa bellissima funzionalità dove potete anche trascinare le vostre immagini quindi supponendo che ne abbiate appena scaricata una quindi per esempio l'avete appena cercata l'avete trovata col tasto destro fate salva immagini con nome la salvate sul vostro computer come solito la vedete comparire qui in basso a sinistra non la toccate perché altrimenti poi dalla barra scompare ma trascinatela direttamente all'interno di thing link e questo è molto comodo soprattutto perché qui io potrei continuare ad aggiungere immagini e ne posso caricare più di una alla volta quindi molto comodo se create per esempio dei tour molto comodo con la nostra escape room che vedremo il caricamento massivo di tutte le immagini in modo poi da averle direttamente a nostra disposizione inoltre qui dal tasto upload avete anche la possibilità di caricarle direttamente da drive oppure da google drive oppure da one drive e poi avete questa nuova risorsa immensa che è unsplash per cercare delle foto liberamente utilizzabili all'interno di thing link quindi se avete bisogno di altre immagini e volete non uscire da google allora rimanete pure qui e usate unsplash fantastico a questo punto cliccate su continua e il sistema le caricherà le troverete tutte qui vi faccio vedere che anche nella nuova piattaforma si possono anche selezionare per esempio contemporanea più di una immagine in modo da poter non so per esempio se avete le cartelle spostarle in cartelle oppure copiarle oppure eliminarle in toto qui avete anche il tastino anteprima quindi anteprima della privacy scusate la privacy setting quindi vi faccio vedere di nuovo perché qualcuno mi dice che non riesce a settare le pubbliche con la nuova piattaforma perché il tastino se ne è andato nascosto il privacy settings può essere settato sulla vostra organizzazione quindi lo vedono solo i vostri studenti ma se lo dovete diciamo mandare in generale alle classi non iscritte a thing link oppure avete fatto un virtual tour eccetera allora dovete mettere public oppure dovete mettere unlisted se fornite a loro il link privato invece se non volete che lo vedano quindi da qui subito appena caricato vi consiglio di mettere a posto le privacy settings ancora prima di mettere i bottoni interattivi perché poi esperienza insegna che bene dimenticate me dimentico anche io se ne dimenticano i miei studenti e corriamo il rischio di creare dei prodotti che poi dobbiamo rimettere a posto in un secondo momento a questo punto andiamo a vedere cosa è cambiato quando noi clicchiamo sull'immagine su cui vogliamo lavorare la prima schermata è una schermata diciamo di benvenuto nell'immagine dove qui ci sono dei bottoni e i bottoni ci portano la matitina subito al vecchio aspetto di thing link dove non è cambiato niente qui è tutto interattivo nella stessa maniera perciò avete solamente da fare uno step in più rispetto ai video che avete visto in precedenza poi avete di nuovo la visualizzazione dei vostri privacy settings avete la possibilità di rinominare direttamente da qui il vostro file quindi molto molto comodo scusate molto comodo perché prima invece era da fare a una volta aperta l'immagine invece così posso farlo sia da qui sia peraltro se io chiudendo l'immagine voglio tornare di nuovo al menu iniziale questi tre puntini vi permettono da qui di fare tutto quello che vi sto facendo vedere quindi già dalla piattaforma iniziale senza aprire l'immagine tutto quando io posso di nuovo rinominarla ecco una volta rientrati qui vi faccio vedere di nuovo i tastini c'è il move to folder che non ci interessa in questo caso le statistiche di visualizzazione se volete vedere quante persone stanno guardando il vostro thing link quanti click hanno usato eccetera la possibilità di clonarlo se avete bisogno di farne delle copie la possibilità una volta messi dentro tutti i vostri pulsanti oppure ancora prima di metterli ma volendo conservare i privacy settings è il nome di cambiare l'immagine di sfondo senza cambiare per esempio i collegamenti se avete fatto un tour e le avete già tutte collegate già tutte impostate vi conviene cambiare l'immagine di sfondo piuttosto che creare un nuovo un nuovo file poi c'è l'opzione download che però vedete che questa è un'opzione a pagamento c'è l'opzione delete e poi c'è l'opzione share quindi condividi qui praticamente quasi nessun cambiamento se non nell'aspetto potete inserire il vostro thing link all'interno di un sito potete potrete copiare il vostro link che porta la all'immagine interattiva vi consiglio di tenere sempre accesa questa barra blu perché vi permette di far vedere direttamente il prodotto senza che gli studenti si accorgano di del sito su cui sono arrivati quindi più immediato vederlo fate le prove comunque secondo me è molto meglio nascondere l'interfaccia thing link in modo che loro vedano solo i pulsanti interattivi e qui bellissimo avete la possibilità di utilizzare il qr code per far arrivare le persone sul vostro sul vostro thing link mettendola tutto schermo nella dd e nella dad arrivano semplicemente inquadrando col cellulare il computer che è magari davanti lo schermo che stanno usando altrimenti potete sempre col tasto destro salvare l'immagine scaricarla sul vostro computer e poi mandargliela tramite classroom oppure tramite altri altri modi chiaramente il qr code richiede che chi guarda il thing link abbia due device uno non so se siete pratici di qr code uno con cui inquadrano il qr code e uno su cui c'è il qr code quindi valutate bene come lo condividete per chi ha un solo device sempre copy link però sfruttate il tasto di pubblica sui social quindi vi ricorda sempre di guardare la privacy setting che avete che avete messo in precedenza e avete qui gli agganci a microsoft teams a classroom e a tutti gli altri social eventualmente utilizzabili nonché alla vostra mail o anche se avete una una se utilizzate la thing link app su facebook ne parleremo in un altro momento a questo punto se volete per esempio io sono google trainer quindi farò vedere classroom se cliccate sul vostro classroom si riapre di nuovo la finestrella di condivisione e questo è sempre la solita finestra di condivisione all'interno di un programma che è associato a classroom